ciao a tutti benvenuti su bimbi creativi oggi vi faccio vedere come creare una rana origami che salta davvero non so se la conoscete già vedete che carina questa questa tecnica degli origami per realizzare le rane è una cosa abbastanza classica che spesso fanno i bambini perché oltre ad essere relativamente facile da realizzare è molto divertente perché come vedete salta da sola e si possono fare molte sfide e allora per prima cosa per realizzare la nostra rana origami servirà un foglio da origami oppure se non avete a disposizione un foglio da origami un foglio leggero di carta con un quadrato circa 15 per 15 potete anche tenere il foglio più grande più il foglio sarà grande più grande sarà la nostra rana allora vediamo il colore allora invece di farla verde la volevo fare colorata la facciamo azzurra va bene allora i fogli di origami li trovate anche in vendita e possono essere di due tipi come questo che è dello stesso colore su tutti e due i lati oppure vedete che questo è bianco da una parte e colorato dall'altra dipende un po da quello che volete fare per fare la nostra rana vanno benissimo entrambi però io preferisco questo qua colorato da tutte e due le parti allora vi faccio vedere le varie pieghe quindi si prende il primo e si mette in questo modo allora se non riuscite a stare dietro in questo momento per filo e per segno alla spiegazione non preoccupatevi perché il video potete sempre rivederlo sia sulla mia pagina facebook che anche sul mio canale youtube allora una volta che ho piegato il mio foglio inizio a piegarlo in questo modo così mi aiuto con l'unghia per fare la piega migliore e lo piego sia da una parte che dall'altra faccio la stessa cosa anche sull'altro lato vedete con l'unghia mi aiuto a fare la piega migliore giro e faccio anche dall'altra parte e sono a questo punto ho ottenuto questo triangolo giro il foglio e vado a ripetere dall'altra parte la stessa cosa ecco quando fate gli origami è molto 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 importante che le pieghe siano diciamo perfette quindi che combacino perfettamente gli angoli o le righe perché sennò alcuni origami non vengono allora vado a ripetere la stessa cosa dall'altra parte quindi la piego una volta di qua e una volta sul retro in questo modo quindi avrò questa situazione come vi dicevo se non riuscite a seguirmi adesso non preoccupatevi perché potete rivedere il video allora vado a piegare verso l'interno sempre da una parte e poi dall'altra e vado a ripetere l'operazione di qua ok in questo modo a questo punto dovreste essere così vedete con tutte le pieghe fatte cosa succede adesso la parte più complicata allora devo spingermi dove forse tenerlo di qua allora spingo le alette e nel spingere le alette vedete mi si chiude in questo modo e quindi ottengo questa forma come vi dicevo questa è la parte più complicata vado a fare la stessa cosa dall'altra parte quindi alzo leggermente piego verso l'interno e poi schiaccio in questo modo e questa è la base della mia rana ora cosa dovrò fare dovrò andare a creare le zampette quindi vado a piegare prima così e poi così tutti tutte le parti quindi ho fatto questa faccio di qua quindi vi faccio rivedere piego prima verso il centro e poi faccio la seconda piega verso l'esterno poi giro la mia rana e ripeto la stessa cosa quindi prendo l'angolo lo giro verso l'interno con l'unghia mi aiuto bene e poi piego verso l'esterno vi faccio rivedere l'ultima volta quindi prendo l'angolo piego verso l'interno schiaccio bene con l'unghia e poi giro e piego verso l'esterno ok a questo punto ho ottenuto questo risultato la rana come potete vedere già quasi pronta adesso devo andare ad identificare il lato che si può piegare quindi che è quello dove diciamo le le zampette devono risultare così vado prima a piegare il sederino della ranocchia in questo modo e poi vado a piegare le le i lati esterni verso l'interno prima uno quindi ho piegato da qui ho piegato così e poi vado a piegare l'altro sempre aiutandomi con l'unghia così questo è stato piegato pochino troppo perché devono più o meno essere uguali e vado vado già ad aggiustarlo ecco se si vede che una pieghetta non è proprio perfetta si può leggermente aggiustare a questo punto la mia rana è quasi finita cosa faccio la giro piego qui dove c'è vedete questa pieghetta qua la piego a metà in due e poi le ali le spingo le ali le zampe le spingo in questo modo perché devo creare una sorta di di molla ok quindi vi faccio rivedere ho piegato la rana verso l'interno e poi ho ripiegato la parte finale su se stessa in questo modo così ecco qua e questa è la mia rana pronta per saltare come vedete creare la lana la lana la rana di sbagliarmi a parlare creare la rana è semplicissimo se avete perso qualche passaggio come vi dicevo non preoccupatevi perché potete trovare questo video sia sulla mia pagina facebook quindi bimbi creativi che sul mio canale youtube dove mi trovate sempre come bimbi creativi vi ricordo anche che potete iscrivervi al club e ricevere tante idee creative direttamente sulla vostra email trovate le modalità di iscrizione sul mio blog quindi su www.bimbicreativi.it nel menu c'è il campetto entra nel club e lì potete trovare tutte le informazioni se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete ciao a tutti con la prossima idea creativa